Bella a tutti i miei slime, qui Al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova reaction e oggi ascoltiamo Anima di Draftgold. Primo estratto di Elo Overtime, che sarebbe la deluxe di Elo, che tra l'altro il rapper bolognese ha annunciato nelle precedenti settimane. Anzi, più che deluxe, ha fatto intendere che si tratta praticamente della seconda parte dell'album. Quindi io effettivamente mi aspetto anche un progetto un po' corposo, diciamo, dalle dieci tracce in su, non lo so. Che dire, io onestamente ho hype, anche se poi alla fin dei conti Elo non è che mi sia piaciuto così tanto, e non fraintendetemi, è un album godibile, carino. Però se ripenso a Canaglia, per me è inferiore. Tra l'altro ho fatto la reaction proprio ad Elo e ve la lascio qui, come sempre, in descrizione nel caso in cui ve la foste persi. E se magari vi interessa sapere qualcosa in più in merito a quell'album. Che poi, in realtà, ripeto, non è un progetto così malvagio. Nel senso, c'è qualche hit, però la cosa che proprio meno mi ha convinto è l'album in generale, proprio in tutto il suo prodotto. Interamente non me lo sono riascoltato, più che altro. Qualche hit, sì, tipo mi viene in mente Elo oppure Wickrami. Ma tutto quello che è venuto fuori da quelle 15 tracce non mi ha fatto impazzire. Ora che ho proprio la tracklist davanti, cioè ragazzi, i hit ormai in ogni album italiano mainstream sono sempre gli stessi. Avete rotto i coglioni. Che poi non tutti hanno fatto male, per carità, però basta. Probabilmente anche questo l'ha penalizzato un po' rispetto a Canaglia. Comunque, concentriamoci sul presente e c'è questa deluxe, per cui, sinceramente, ho un botto di hype. Non chiedetemi perché. Logicamente, dico io, non mi è piaciuto l'album normale perché dovrei avere hype per la deluxe. Non lo so, manco io, sinceramente. Quello che so è che Draftgold è un artista che mi piace tanto e nel mainstream, probabilmente, se andiamo a vedere anche gli altri rapper, è uno di quelli che ha mantenuto bene o male il livello. Quindi ora, vabbè, vedremo cosa avrà cacciato fuori. Tra l'altro, oggi ha fatto sentire un piccolo snippet di questa traccia, anima, e sembra un pezzo molto introspettivo. Anzi, mi ha incuriosito molto. La produzione è stata affidata a Dave's The Kid e Drillionaire, che, per carità, non sono i miei produttori preferiti. Vediamo cosa ha combinato. Allora, non mi è dispiaciuta per un cazzo. Sarò sincero, è una bella traccia. Abbastanza distante rispetto alle tipiche sonorità di Draftgold, che comunque l'abbiamo conosciuto tutti come quello presa bene o comunque quello trap. Invece questa canzone ha questo mood un po' conscious, un po' introverso, quasi freddo e distaccato. Devo dire, niente male, ha sperimentato bene. Anche il testo a primo ascolto mi è sembrato un po' più profondo rispetto alla roba che di solito scrive. Ora, questa canzone non so che posto andrà a occupare nella tracklist, ma devo dire che ce la vedo veramente molto azzeccata come intro. Ma se poi ci penso, anche come outro non sarebbe male. Ha un po' tutto quell'alone introspettivo, come ho già detto, che comunque affascina. Nel senso che se ora avessi tutto l'album, sicuramente, anzi, sarei molto curioso di ascoltare la seconda traccia, poi magari la terza e via dicendo. Pure la produzione, in fin dei conti, non è così malvagia. Ripeto, Daves e Drillionaire sono due produttori che, con tutto il rispetto per loro, non fanno roba per me. E resto comunque convinto che Draft Goals avesse un produttore un po' più, come dire, originale. Ma più che originale, con un po' più di personalità, renderebbe il triplo. Però, su questa canzone non hanno fatto un brutto lavoro. Il beat fa un lavoro di accompagnamento, non è eccezionale, però, ripeto, non mi lamento. Ora però ci tengo anche a lanciare un appello. Basta odiare Drift Goals. Cioè, veramente, io capisco un sacco di rapper che vengono odiati, anche quando sono tra i miei rapper preferiti. Però odiare Drift Goals non ha davvero senso. Cioè, lui è una persona proprio pura, è un bravo ragazzo. In quanti anni sta sulla scena a livello mainstream? Due, tre, quattro? Forse dai, diciamo che sta da cinque barra massimo sei anni in generale a fare rap. Avete mai sentito parlare di una beef avviata da Drift Goal, o comunque in cui Drift Goal sia stato protagonista, o comunque avete mai sentito di Drift Goal che andava a cacare il cazzo a qualcuno che sia un rapper, un qualcuno che sta all'esterno della musica? Io, no. È una persona che veramente si fa i cazzi suoi quando rilascia la sua musica, lo annuncia, droppa l'album, single, eccetera, eccetera. Ma per il resto è veramente una persona, secondo me, d'oro. Cioè, io non lo conosco, ma ve lo giuro, me lo immagino come un pezzo di pane di persona. Di conseguenza non capisco chi lo odia, cioè, veramente, non ti piace la sua musica? Non te l'ascoltare, basta, cioè, non ci vuole la scienza. Ma invece è veramente uno di quei rapper che in questi anni ho visto più prendere merda. E io dico, basta. Basta al maltrattamento dei Drift Goal, è una specie che dobbiamo tutelare. Ok, vabbè, a parte le stronzate ho un attimo esagerato, però, non lo so, spero che abbiate capito il punto del mio discorso. Vabbè, comunque ci sta, mi ha incuriosito, ho ancora più hype per Hello Overtime. Fatemi sapere se vi piacerebbe avere una mia reaction, ma giusto per, perché ho già deciso che la farò, quindi non preoccupatevi. Vi ricordo che ho una playlist sulla trap italiana, la trovate in descrizione, insieme a tutti gli altri miei link, Instagram, Facebook, Spotify, per tutte le altre playlist ne ho veramente un casino. Comunque sì, a questo singolo vi è piaciuto? Fatemelo sapere qui sotto con un commento, avete hype anche voi per Hello Overtime o non ve ne frega un cazzo. Nel caso in cui il video vi fosse piaciuto, vi invito anche a lasciare un mi piace. Se non siete iscritti al canale, cosa stracazzo state aspettando? Iscrivetevi, se invece lo siete già, attivate la campanellina, in modo tale da non perdervi tutte le cose che carico qua dentro. Reaction, video sui rapper, è tutto letteralmente. Condividete questo video con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo Slat. Noi ci vediamo a tutti.